Sono entrambi visibilmente emozionati Roberto Vecchioni e Roberto Bolle sul palco in Piazza del Duomo alla fine dell'esibizione che ha visto l'etuale danzare con Nicoletta Manni sulle note di Lucia a San Siro, una delle canzoni simbolo del capoluogo meneghino. L'occasione è lo show finale di On Dance, giunta alla seconda edizione di cui l'artista ha già annunciato un nuovo appuntamento per il prossimo anno davanti ad una piazza gremita di invisibilio. Ecco alcuni numeri dell'esibizione 2019, più di 50.000 persone coinvolte attivamente nell'attività dell'intera settimana, di cui oltre 2.500 gli iscritti alle open class quotidiane al Teatro Burri nel cuore del Parco Sempione, circa 9.000 spettatori ai quattro gala, tutti sold out al Teatro degli Archimboldi, migliaia di spettatori danzanti agli eventi di Lisho, Swing, Tango, Street Dance. L'allestimento dello spettacolo in Duomo prevedeva una platea di circa 1.000 persone e intorno a uno spazio delimitato per circa 18.000 persone, cui si erano aggiunti migliaia di persone fuori, transenne sul palco, accanto a Roberto Bolle, ai danzatori e a Roberto Vecchioni, tra gli altri Geppi Cucciari e alla conduzione della serata, Mamouda e il violinista di fama internazionale Alessandro Quarta.